Il tempo è denaro, prima arriva l'autonomia, meglio è per tutta Italia, soprattutto per quei cittadini del centro del sud che con una gestione burocratica e statalista hanno servizi lontani da quelli che ad esempio hanno i cittadini lombardi, perché il problema è vero, penso ad esempio alla sanità, se ogni anno vengono a farsi curare, operare negli ospedali lombardi quasi 200.000 cittadini da altre regioni italiane è perché nelle altre regioni qualcosa non funziona. Possiamo aspettarci un ok del CDM entro la primavera? Prima, entro l'inverno. Entro la fine dell'inverno? Sì, sì, assolutamente.